Allora Marco, cosa dobbiamo dire al gruppo sostenitori che vi ha dato tanta solidarietà su Facebook? C'è qualche notizia che dobbiamo comunicare? Beh, innanzitutto i soliti ringraziamenti perché sono veramente straordinari e vi prego di continuare così a darmi questo sostegno. Devo comunque comunicare che adesso questa è la prima serata che riesco a lavorare oltre le 11, entro le 11, quindi è già un piccolo passo. Il fine settimana lavorerò, sarò aperto fino a mezzanotte, quindi che dire, diciamo che iniziamo un po' a lavorare e a ridare anche i chiagiotti, quello di cui sono abituati, cioè un luogo di rinfresco, delle serate calde. Quindi la crisi è rientrata, l'amministrazione è tenuta incontro? Diciamo parzialmente rientrata, l'amministrazione si è promessa di tentare di salvaguardare questa piccola attività produttiva, ma così molto sostenuta dal cittadino. Quindi mercoledì non facciamo nessuna settimana? Mercoledì sospenderemo, ma teniamo alta la guardia perché queste piccole realtà non scompaiono a ver tutto. Comunque l'amministrazione è tenuta incontro? L'amministrazione è sicuramente fatta di persone seriche. Devi ringraziare? Devi ringraziare il sindaco, in particolare il vice sindaco, che si è adoperato in maniera strana, per cercare di soddisfare entrambe le parti. Perfetto, bene, ciao. Grazie a tutti.